Salve ragazzi, avete studiato nel primo semestre il lavoro dipendente, anche il contratto di lavoro e questo secondo semestre voi studiate il lavoro autonomo e come puoi fare un lavoro autonomo, ok? Il lavoro autonomo vuol dire che tu avrai un'azienda tua, una tua azienda vuol dire che tu non hai un datore di lavoro ma la tua azienda parte dalla tua testa parte da un'idea, devi avere un'idea e poi puoi fare un progetto d'impresa oppure un business plan e puoi avviare la tua azienda, puoi mettere su una tua azienda iniziamo dall'idea tu devi avere un'idea per avviare la tua azienda prima di avviare anche la tua azienda devi pensare prima e la tua idea puoi avere un'idea dall'ambiente dove tu vivi vediamo qui questo esempio di Tok Tok qui un ragazzo lui ha notato dove vive Alfa Ium che manca al servizio dell'assistenza per il Tok Tok quindi lui è un meccanico lui può riparare dei Tok Tok quindi lui pensa di aprire un'officina per riparare il Tok Tok questo è un esempio quindi tu parti da una idea ma questo vuol dire ragazzi che qualsiasi idea buona, un'idea buona noi possiamo realizzarla no certo che noi non possiamo realizzare qualsiasi idea ma noi dobbiamo fare tanti controlli dobbiamo fare tante verifiche dobbiamo valutare dobbiamo vedere se questa idea è fattibile o no fattibile vuol dire che può essere realizzata possiamo fare fattibile vuol dire che noi possiamo fare questa azienda quindi è fattibile quindi noi dobbiamo verificare la fattibilità dell'azienda vi do un esempio se tu pensi di aprire un albergo di 5 stelle prima, questa è una buona idea ma questo vuol dire che questa idea è fattibile è realizzabile devi pensare prima tanto alla fattibilità devi verificare e controllare la fattibilità di questa idea se questa idea è fattibile o no ma ci sono tanti elementi da considerare da prestare a cui dobbiamo prestare attenzione da prendere in considerazione ragazzi quali sono questi fattori? questi fattori sono i rischi e gli ostacoli che noi dobbiamo affrontare che noi dobbiamo incontrare quando creiamo la nostra azienda ci sono tanti altri elementi come le esigenze del cliente ok? le esigenze vuol dire i bisogni i bisogni del cliente dobbiamo controllare le nostre possibilità di investimento se tu puoi investire o no se tu hai le possibilità finanziarie tu hai dei soldi devi anche considerare le competenze professionali per esempio se tu apri un albergo tu devi avere un'esperienza una competenza uno staff che può gestire molto bene questo albergo tu anche devi controllare e considerare se c'è una concorrenza dei concorrenti ci sono altri alberghi che possono essere dei tuoi concorrenti ok? va bene quindi una buona idea non è sufficiente per determinare il successo di un'iniziativa imprenditoriale questo vuol dire un'idea non basta un'idea buona non basta non basta per portare a te il successo ok? devi fare tante altre cose devi verificare la fattabilità devi considerare i rischi e gli ostacoli devi considerare le esigenze del cliente devi controllare se tu hai i soldi sufficienti per avviare una tua azienda o no ma il fattore più importante la cosa più importante che noi dobbiamo considerare per garantire il successo dell'impresa è la validità tecnica e commerciale della tua idea imprenditoriale idea imprenditoriale vuol dire un'idea che può essere un'impresa idea che può diventare un'azienda ok? va bene la validità tecnica e commerciale la validità tecnica e commerciale la validità vuol dire essere valido quindi se tu hai la validità tecnica vuol dire che tu hai le capacità e le competenze tecniche oppure almeno tu puoi assumere dei lavoratori che hanno queste capacità tecniche ok? quindi anche la validità commerciale vuol dire la capacità di vendere ok? la capacità di vendere di fare marketing per quanto riguarda l'albergo la capacità di fare pubblicità e portare degli ospiti nel tuo albergo ok? tu devi verificare se tu hai veramente la validità tecnica e commerciale vuol dire che tu hai tutte le competenze necessarie per fare funzionare molto bene la tua attività economica va bene deve anche avere tutti i dettagli che riguardano questa idea e devi verificare tutte le informazioni che tu hai e le informazioni che tu devi ancora cercare e avere prima di avviare la tua azienda ok? ma quindi tutto qui ragazzi tutto comincia da un'idea e poi il secondo passo è il progetto stesso ok? tu devi pianificare il tuo progetto ok? ma una volta ragazzi se per esempio hai avuto un'idea e tu hai scoperto che questa idea non è fattibile non è verificabile come possiamo reagire cosa dobbiamo fare cosa possiamo decidere in questo caso possiamo fare tre decisioni la prima decisione possiamo modificare cambiare alcuni aspetti dell'idea senza stravolgere l'idea di fondo quindi possiamo modificare alcune cose dell'idea però senza cambiare tutta l'idea la soluzione B che noi possiamo reinviare la realizzazione del progetto ad un momento successivo più adatto questo vuol dire che tu per esempio tu capisci che quest'anno non puoi realizzare il tuo progetto la tua idea ma hai un'alternativa che tu puoi magari realizzare la tua azienda l'anno prossimo pure due anni dopo tra tre anni eccetera ok quindi in un altro momento in un altro anno la soluzione numero tre soluzione sì possiamo decidere di abbandonare definitivamente l'idea possiamo lasciare abbandonare vuol dire lasciare senza ritornare all'idea ok possiamo lasciare questa idea ok quindi cerchiamo un'altra idea semplicemente va bene spero spero ragazzi che voi abbiate capito molto bene le lezioni ciao alla prossima lezione lezioni